Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nel video di oggi ho pensato di condividere con voi le cose che devo avere sempre con me sapete che quest'anno ci siamo spostati tantissimo siamo stati a Vancouver per praticamente la prima metà dell'anno poi siamo tornati a Toronto per due mesi ora saremo a Milano fino a fine novembre quindi ci spostiamo ma alcuni prodotti li porto sempre io non posso stare senza questi prodotti se sono senza questi prodotti non capita perché devono sempre venire con me e vengono anche come tipo per dei weekend vengono con me anche per solo una settimana di viaggio cioè questi prodotti per me sono mai più senza e ho pensato di condividerli con voi e chiudere diciamo la triade che ho iniziato la domenica dove vi ho parlato del body care e skin care ovviamente vi metto i video qui nelle schede se ve lo siete persi poi vi ho parlato del make up che ho utilizzato nell'ultimo periodo e invece adesso vi condivido i prodotti proprio che cioè io devo sempre averli con me indipendentemente dalla parte del mondo in cui mi trovi perché questi prodotti per me sono fondamentali quindi senza perci in cracker iniziamo iniziamo primo prodotto è questa cuffia di The Vintage Cosmetics questa è una cuffia doccia e ti chiedi perché Franci non puoi utilizzare qualsiasi cuffia doccia quando vai in hotel ti danno quelle cuffie tipo di plastichine eccetera eccetera no perché questa è la cuffia della vita per quanto mi riguarda è molto molto più spessa l'elastico è molto molto cioè è fatta meglio ovvero ci sono cuffie da doccia che costano 2 euro e questa forse credo che ne costi 5 o 6 ma la differenza per i pochi soldi che bisogna diciamo pagare di differenza vale tutti i soldi che costa ho convertito tutte le mie amiche a questa cuffia se voi vi allenate poi dovete farvi la doccia ma come me avete i capelli fini e se i miei capelli toccano l'acqua si sporcano in due secondi e soprattutto perdono la piega e ovviamente non mi lavo i capelli tutte le volte che mi alleno questa per me è stata la rivoluzione sempre con me la porto sempre con me adesso molto probabilmente quando poi arriverà il black friday me ne comprerò un altro magari sperchesca tipo di vintage cosmetics fa sempre un sacco di set di natale super carini però per me questa mai più senza è secondo me la migliore cuffia doccia cioè che proprio esista sul mercato e ormai la utilizzo da anni e anni e anni e in realtà questa è ancora la prima che vi mostro tipo da 3500 anni a questa parte quindi per farvi capire è da anni che la utilizzo l'elastico è ancora perfetto quindi super super consigliata poi altra cosa che mi porto sempre sempre con me è il mio cuscino di slip and glow anche qui questo qui molto probabilmente non è una novità per voi e ormai ve l'avevo fatto vedere che me l'ero portata anche a Vancouver ormai è con me da quasi un annetto e non l'abbandono più perché non l'abbandono più è perché per me mi ha rivoluzionato diciamo la vita se così possiamo dire se voglio essere proprio drammatica però non mi verrei mai qui a consigliarmi qualcosa se tipo non pensassi che queste cose valgano ogni centesimo che costano per me questo cuscino è il cuscino ovviamente cambiando sempre casa è difficile cioè che tu vai che ne so in un Airbnb e trovi il cuscino perfetto quindi mi trovavo sempre ad avere una malteschiena allucinante questo cuscino ha due per me benefici uno mi tiene il collo perfetto ve l'avevo detto anche mesi mesi fa se siete qui appunto almeno avete già sentito parlare di questo cuscino ve l'ho fatto vedere anche che tipo ogni volta che da Vancouver andavo a Toronto magari vi metto qui le storie me lo portavo perché per me questo cioè finisce sempre nella valigia è piccolo cioè in senso è un cuscino quindi non è proprio la cosa più travel friendly che ci sia però per me è fondamentale perché la differenza tra dormire e non dormire dormire senza avere la cervicale e svegliarsi e non avere mai il collo per me fa la differenza più grande soprattutto poi noi che lavoriamo tutto il giorno al computer comunque vi stavo dicendo per me questo cuscino ha due benefici uno mi sostiene bene il collo e mi fa dormire in tranquillità io ero anche una persona che dormiva tipo con tre cuscini perché non riuscivo mai a trovare la giusta la giusta altezza la giusta morbidezza eccetera eccetera e poi questo ha anche il beneficio che se come me voi dormite di lato questo qui è anche un cuscino di bellezza perché avendo questo buchino qui ovviamente adesso non andrei mai appoggiare la faccia perché ho il make up e non voglio andare a sporcare il cuscino ma avendo questo ma avendo questo buchettino qui se voi dormite di lato praticamente il vostro viso non tocca il cuscino vi metto qui una foto per spiegarvi quello che dico ma credo che ormai lo conosciate questo cuscino perché è tipo la mia ossessione e se non appoggiate ovviamente il viso cioè il viso non è troppo schiacciato il cuscino in teoria dovreste schiacciarvi meno la pelle ovvero meno rughe per me questo cuscino è proprio stato master lo porto sempre con me e mi ha veramente cambiato il modo in cui dormo mia mamma è venuta questo weekend a Milano l'ha provato e se ne è innamorata anche lei follemente per quanto riguarda la comodità e anche lei non si aspettava che fosse così comodo perché secondo me lo vedi e dici ma un cuscino così piccolino come fa a essere comodo non lo so è fatto di magia è fatto di questo è fatto di questo materiale che per quanto mi riguarda è super comodo poi io lo so che i cuscini sono molto molto soggettivi quindi vi posso dire è il cuscino più comodo del mondo e per voi magari non è il cuscino più comodo del mondo ma per me è il cuscino più comodo del mondo e la cosa pazzesca su questo cuscino è che questa settimana ovvero dalla settimana dall'1 al 10 ottobre questo brand che si chiama Sleep & Glow festeggia il suo compleanno e mi hanno dato un codice speciale solo per voi che vi dà il 15% di sconto onestamente il 15% è lo sconto più alto che io sia mai riuscito a ottenere da loro l'ultima volta mi ero fatta riuscire solo a dare un piccolo coupon di 10 euro da togliervi al totale per il cuscino mentre questa volta mi hanno dato un codice del 15% quindi se avete sempre mal di schiena se volete appunto cercare di mitigare le rughe se dormite tanto soprattutto di lato come me oppure se volete fare un regalo alla vostra mamma comunque è natale, sta arrivando o magari vostra mamma come la mia è nata a novembre quindi volete fare un super regalo questo cuscino per me è super consigliato vi metto qui il codice FRANCI15 come vi ho detto dura dall'1 al 10 ottobre perché festeggiano il compleanno solo per quei 10 giorni quindi se siete interessati e se volete provarlo se volete farvi un regalo a voi, un regalo alla vostra mamma un regalo a qualcuno che amate cioè profondamente questo cuscino per me è stata la rivoluzione e come immaginerete vedete me lo porto ovunque quindi un motivo ci sarà se me lo porto dal Canada all'Italia cioè potete capire la mia ossessione continuiamo con le ossessioni che mi porto sempre qua in Italia questo porta pennelli qui di My Kit & Co è un'altra cosa che mi porto sempre con me quando viaggio anche qui indipendentemente da dove io vada per me è comodissimo a parte che guardate quanti pennelli contiene è diviso da questo contenitore da questo acrilico e poi ha questa sorta di protezione che tiene i pennelli tiene i pennelli chiusi quindi non si sporcano è comodissimo quando viaggio per far sì che nella valigia sia meno così grande quello che faccio tolgo praticamente gli inserti in acrilico e poi lo schiaccio ed è veramente pazzesco per me questo mai più senza anche qui tutti questi prodotti in realtà sono prodotti che io mi segnerei come super regali per Natale perché sono comunque prodotti un po' particolari però per quanto mi riguarda mi hanno veramente cambiato e questo qui pazzesco sempre per quanto riguarda pennelli porto anche sempre con me questi di Spectrum questo qui è il set di Spectrum che ho scoperto praticamente cioè non è che l'avevo scoperto io l'avevo già scoperto ma ho avuto il coraggio di prenderlo solo a inizio anno e oh mio dio c'è perché non l'ho preso subito appena uscito questi pennelli della Spectrum sono pazzeschi cosa faccio? quando praticamente qui metto i miei pennelli tipo sporchi quelli che utilizzo mentre in questo lascio i miei pennelli puliti poi quelli che sporchi devo in teoria lavarli e poi li cambio e aggiungo nuovi pennelli a questo porta pennelli i pennelli Spectrum in generale questi qui di KD che è appunto una makeup artist si vede che sono stati creati da una makeup artist sono perfetti se avete un occhio particolarmente piccolo perché i pennelli da sfumatura sono veramente veramente piccoli sono dei pennelli molto intercambiabili perché si possono utilizzare per tantissime cose creme, polveri cioè qualsiasi prodotto voi avete nella vostra makeup collection questi pennelli con questi pennelli potete essere certi che verranno applicati nel migliore dei modi poi continuando altro prodotto che è cosa che porto sempre con me e addirittura ne porto sempre due con me ormai sono i turbanti questa qui della Aquis anche qui non credo che sia una novità credo che ormai questi ce li abbiate tutte voi sono i turbanti per capelli di questo materiale che permette di asciugare bene il capello mi permette non di spezzarlo in generale ve lo dico sempre per quanto mi riguarda i miei capelli sono migliorati non solo per le tipologie di prodotto quindi stiero capelli balsamo capelli shampoo capelli maschere eccetera eccetera ma anche gli accessori e quindi anche questi qui per me hanno fatto la differenza perché sono gli unici turbanti che non mi vanno a spezzare il capello ma me lo fanno asciugare bene e poi lo togli e non ti escono fuori i capelli quindi per me questi super super consigliati se ancora non ce li avete non so cosa state aspettando questi top 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 so che il black friday arriverà poi non vi preoccupate vi farò tutti i video dedicati al black friday secondo me i prodotti che valgono la pena ovviamente questi assolutamente sì capete che li amo e per me sono un mai più senza poi prodotto mai più senza che in realtà ho qui che mi sta aiutando a fare un po' più di luce nel al canale perché ovviamente questo qui è un po' uno studio un po' un po' fatto così è ovviamente il mio specchio adesso vi metto qui una foto questo è lo specchio qui vi metto la foto qui questo qui è lo specchio del brand riki 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 by riki about riki qualcosa del genere anche questo lo porto sempre con me vi metto qui foto dello specchio ma è comodissimo ha una luce bianca ha il cosino per il telefono così mi permette di creare contenuti per voi ma soprattutto me lo porto anche quando vado in vacanza perché in hotel non c'è mai una luce bella per truccarsi questo è comodissimo perché ovviamente lo specchio è super super sottile poi ovviamente io ho anche questo accessorio che per me è veramente comodo perché appunto mi permette di creare contenuti una persona normale non ha bisogno di quell'accessorio assolutamente secondo me la cosa più bella è lo specchio sarete non lo so se vostra figlia è una make-up artist se voi siete della make-up artist e volete avere uno specchio pazzesco quando andate a fare magari trucchi sposa trucchi in generale questo è super super consigliato anche qui questo ha un costo però per me vale ogni centesimo che costa il mio si è distrutto e funziona ancora mi è caduto 150 volte e funziona ancora quindi sta a significare che il prodotto è veramente valido o che lo specchio è rotto quindi lo so per tutte le persone che sono superstiziose però è veramente pazzesco per me mai più senza anche questo ovunque io vada me lo porto che sia un weekend che sia una settimana che sia un mese che sia in due mesi che cambiamo continente che cambiamo città questo sempre con me altro prodotto altra cosa diciamo accessorio non è un prodotto che porto sempre con me è questo guanto qui e ora vi chiederete Franci ma cos'è questo qui è un guanto esfoliante per la pelle allora questo qui è comodissimo perché se voi utilizzate ad esempio il mio tobranzante preferito di Diego della Palma ogni tot dovete farvi uno scrub o comunque dovete esfoliare la vostra pelle ora se non volete sempre utilizzare uno scrub perché magari può diventare anche costoso se così possiamo dire anche se ovviamente lo scrub ha un altro feel sulla pelle eccetera eccetera quello che faccio io è quello che ho sempre con me e in generale questa la utilizzo una volta a settimana una volta ogni dieci giorni nella doccia passo il mio bagno schiuma preferito di Rituals e poi metto questo nella mia mano e semplicemente passo e vado sulla pelle per togliere diciamo lo stato morto della pelle e far sì che così quando poi andrò ad applicare la crema idratante sulle mie gambe la crema idratante sulle mie braccia possa andare ed idratare la pelle cioè la pelle che è ancora viva e non semplicemente la pelle che è morta di superficie e quindi questo qui per me è veramente super super comodo lo porto sempre con me è super piccolo quindi occupa veramente pochissimo spazio anche in valigia quindi travel friendly questo perfetto ovviamente adesso in estate era proprio l'accessorio perfetto perché se andate al mare vi abbronzate un pochino questo lavoro lo dovete fare per togliere comunque la pelle morta e far sì che la vostra bruzzatura duri di più questo è stupendo è del brand penso che sia del brand skinny tan cerco di trovarvelo spero che tutte queste cose che io stia citando ci siano online da qualche parte perché ovviamente bene parlo mi piacerebbe anche darvi la possibilità di provarvi se siete interessati a uno di questi prodotti ultimi tre ok ultimi tre prodotti che cioè non posso dire senza accessorio tappeto per lavare i pennelli questo qui è del sì questo qui è del brand sigma e ce l'ho ormai da una vita credo ormai di avercelo da 4-5 anni lo porto sempre con me onestamente non so come le persone che non abbiano questo tappeto facciano lavare i pennelli o in generale certo che si può lavare il pennello senza il tappeto cioè ovviamente lo dico sempre tutte queste cose sono cose utili da avere che secondo me mi rendono la vita molto più semplice poi non c'è bisogno assolutamente di nulla nella vita però questo qui mi rende lavaggio pennelli tipo io riesco a lavare i pennelli anche in 10-15 minuti perché questo qui avendo queste sorte di cosine che non so come si chiamano in italiano non mi viene assolutamente il nome avendo questa sorta di superficie permette alla setola del pennello di andare all'interno e così il vostro pennello si pulisce bene all'interno ma soprattutto si pulisce in due secondi per me questo mai più senza sempre con me miglior acquisto e anche qui ormai ce l'ho da 5 anni ne ho preso uno 5 anni fa e ce l'ho ancora l'utilizzo sempre altro acquisto che boh mai più senza è per me questo asciugamanino questo della Spectrum che vi metto la foto qui dei miei pennelli quando li metto ad asciugare quindi i pennelli li lavo e li lavo con questo tappetino e poi li inserisco all'interno di questo asciugamanino che si può appendere metto i pennelli in verticale e si asciugano in maniera pazzesca ma soprattutto non ho bisogno di avere una mensola grande quanto non lo so il Titanic per far stare tutti i pennelli asciugati in orizzontale su degli scottex cioè questo qui salva spazio tantissimo è super super comodo e anche qui è super travel friendly anche qui lo porto sempre perché comunque cerco di lavare i pennelli ogni 2-3 giorni poi capita che magari non li lavo per 1-2 settimane mi faccio venire anche l'infezione agli occhi grande Francesca ma quando sono brava e in teoria dovreste farlo anche voi specialmente se come me avete una pelle estremamente sensibile dovete lavare i pennelli sempre questo è super comodo anche travel friendly perché voi adesso lo vedete così aperto ma si chiude cioè diventa minuscolo e quando viene piegato bene riesce ad essere messo all'interno di questo che è praticamente la sua pouch la sua bag ed è super super piccolo veramente comodo per me questo è stata la rivoluzione mai più senza anche lui super super comodo anche qui super carino come magari mini regalo cioè se non volete fare un super super regalo potete fare tipo dei mini regali questo rientra secondo me nella categoria mini regali regali comunque super super fighi super particolari ma veramente utili e poi ultimissima cosa che vi voglio far vedere purtroppo non credo che voi possiate reperirlo da qualche parte ma magari potete cercare qualcosa di simile ed è un altro cuscino cioè quando vi dico che per me i cuscini sono tipo la cosa cioè più importante questo qui è un cuscino da sedia che mi ha dato il mio chiropratica si chiama credo si il chiropratico praticamente lui ha proprio inventato questa sorta di cuscino qui lo mettete e si attacca alla sedia magari vi metto una clip e mi permette di avere il cuscino attaccato alla sedia così indipendentemente da quale sedia io sono seduta perché anche qui spostandoci ovviamente tanto non è che tu puoi avere la tua sedia perfetta che ha la comodità perfetta ma pure anche in ufficio cioè non è che negli uffici ti danno le sedie più comode che ci siano questo è super portatile e lo metti attaccato alla sedia e quindi sta al computer e la zona bassa della schiena che è la zona che di solito a me fa sempre più male è sostenuta e quindi a fine giornata o meno mal di schiena quindi lo so sono cose strane come vi ho detto lo so che sono cose un po' strane cose che vi faccio vedere ma sono cose che assolutamente io non posso farne a meno e con questo ho finito anche per oggi spero tanto che il video vi sia piaciuto che vi abbia fatto scoprire qualche prodotto magari anche qualche prodotto un po' più strano del solito ma questi sono i prodotti senza cui non posso stare prodotti che appunto come vi ho detto mi porto cioè dal Canada all'Italia non importa quanto la valigia piena non importa quanto peso sia la valigia quanto pesante sia la valigia piuttosto porto un paio di scalpe in meno ma questi prodotti devono sempre venire con me perché per quanto mi riguarda mi rendono la vita più semplice mi fanno dormire meglio mi fanno avere meno mal di schiena sono prodotti che amo alla follia e quindi volevo assolutamente condividerli con voi spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto e che io vi abbia tenuto un po' di compagnia in questa domenica vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao